Allora, c'è un gran dibattere sull'argomento della carne stampata e della carne coltivata. Gran dibattito anche con una posizione diciamo piuttosto articolata per cui molto spesso viene utilizzata una terminologia del tutto errata. Per esempio viene chiamata carne artificiale e io voglio discutere di questo argomento perché credo sinceramente sia necessario avere modo di conoscere quello che abbiamo davanti a noi per poter articolare diciamo il discorso sul futuro. Il futuro è qualche cosa dove se noi vogliamo rimanerci dentro dobbiamo essere in grado di vederlo, di discuterlo e di averci a che fare piuttosto che rimanere come ospiti, come semplicemente osservatori e essere terrorizzati da quello che si vede. Peraltro l'Italia è uno dei più grandi produttori di alimenti del mondo e quindi prima di decidere di non partecipare a qualcosa è bene discuterci bene sopra e capire di che cosa stiamo parlando. Vorrei fare un po' una panoramica sulla questione. Allora mi permetto di mettere una versione di aggiungere al palco eccolo un po' di slide allora partiamo dall'inizio parliamo un attimo di cucina italiana e iniziamo a discutere di questo. Allora mettiamo un po' di concetti in fila la cucina italiana è prima di tutto molto simile alla cultura. Noi siamo più che arroccati sul nostro campanilismo noi siamo il vero popolo che è la sintesi di quello che è una serie di culture, di etnie, di pensieri diversi che sono stati sintetizzati e resi per molti aspetti migliori all'interno di una popolazione. L'Italia è sempre stato un luogo di passaggio, è sempre stato un luogo piuttosto ricco, è sempre stato un luogo dove si faceva della diversità ricchezza. La nostra etnia non esiste, non c'è un disegno etnico italiano, non siamo un popolo che è rimasto arroccato con se stesso per migliaia di anni. Noi ci siamo sempre fusi con quello che abbiamo avuto intorno e siamo per questo particolarmente culturalmente migliorati perché è un dato di fatto, noi abbiamo preso il meglio da quello che avevamo intorno e l'abbiamo trasformato in qualcosa di autenticamente italiano come è successo alla grande nel rinascimento. E con la cucina è successa la stessa cosa, noi abbiamo posti come la Sicilia dove convivano simultaneamente il couscous con la polenta, abbiamo gli stili medio orientali con quelli nordici, ma non solo di cucina, anche dal punto di vista dei tagli etnici del viso, abbiamo uno alto un metro e novantacinque con i pelli biondi e gli occhi azzurri che magari è sposato con un'alta un metro e quaranta con i capelli neri e gli occhi neri, cioè si capisce che si viene da due mondi diversi e che si sintetizza qualcosa di nuovo. Quindi il punto fondamentale è che non esiste una cucina italiana vista dal punto di vista noi abbiamo inventato il questo o quell'altro, ma piuttosto noi abbiamo sintetizzato culture diverse e le abbiamo rese più unificate, migliori per molti aspetti e questo nella cucina è fondamentale e si può fare su questo mille discorsi. Quindi il primo punto è che non parliamo per favore mai più, ma non mai più, di quello che è l'idea di una cucina italiana come qualcosa di avulso dal rapporto col mondo, cioè il campanilismo nella cultura italiana è quanto di più ridicolo esista, cioè se uno pensa che la cultura italiana è qualcosa di retrograda, è arroccata su se stessa vuol dire che non ha nemmeno iniziato a studiarla. Noi ci basiamo sul multiculturalismo e sulle molte tendenze simultanee. Prima cosa. Seconda cosa, cosa succede? Che ci sono dei grandi prodotti e io su questo farò un discorso sul termine processato. Ci sono dei grandi prodotti che sono caratteristici della cultura italiana che sono prima di tutto il vino, il formaggio, le insaccati, la pasta secca all'italiana, l'olio e sono i grandi prodotti che disegnano diciamo la bandiera degli argomenti della cucina italiana. Ma questi prodotti da che cosa vengono fuori? Vengono fuori da una domanda molto semplice. Come faccio a mantenere a lungo il grano? Come faccio a mantenere a lungo il maiale? Come faccio a mantenere a lungo le olive? Come faccio a mantenere a lungo l'uva? Come faccio? Faccio delle tecniche che mi danno la possibilità di trasformarli, renderli peraltro anche molto migliori perché vogliamo paragonare l'uva col vino o il grano con la pasta secca all'italiana o il maiale crudo con un culatello di zibello. Cioè chiaramente no. E cosa succede? Succede che l'esigenza si trasforma in tecnica. Però queste tecniche che noi ormai vediamo come qualcosa di quasi naturale in verità sono processazioni molto importanti. Prendiamo per esempio il vino. Noi il vino costruiamo delle piante che sono state selezionate geneticamente negli anni per dare dei risultati particolari. Vengono potate a seconda del terroir della quantità d'acqua, del tipo di uva che voglio tirare fuori. Poi vengono raccolte in un momento prestabilito, vengono spremuti. Viene fatta una spremitura in bianco o in rosso. Poi viene fatta una prima trasposizione della parte dei tannini, dei coloranti dentro il liquido attraverso l'immissione del cappello, per esempio quello in rosso, nella spremitura in rosso. Poi addirittura abbiamo addestrato dei microorganismi come sono i lieviti a fare un lavoro per noi. Ma ne abbiamo addestrati tanti. tanti lieviti diversi per fare tante cose diverse, tante muffe diverse per fare insaccati e formaggi diversi, tanti funghi diversi per fare prodotti diversi. Quindi noi non solo abbiamo processato moltissimo questi alimenti, ma abbiamo addirittura addestrato dei microorganismi a lavorare per noi. C'è processazione tecnica e manipolazione genetica nel tempo e grande processazione dal punto di vista della struttura. E in più abbiamo anche addestrato dei microorganismi. Quindi quando voi sentite, ah ma quello è un cibo processato, la pasta secca italiana è molto processata. Non è che stai mangiando qualcosa che viene direttamente dal grano. Subisce una serie di trasformazioni. Addirittura per esempio la pizza. Abbiamo addestrato i lieviti a fare un lavoro per noi. Quindi ci entra di mezzo anche un altro microorganismo che noi abbiamo selezionato geneticamente nel tempo. Certo non abbiamo fatto delle trasformazioni genetiche o tecniche dal laboratorio, ma l'abbiamo selezionato. Se voi andate a vedere al microscopio una cerevisia rispetto a una pigulata, sembra di vedere un pitbull in mezzo a dei pulcini. Cioè le cerevisie sono grosse dieci volte di più, sono incazzate, si muovono in continuazione, replicano con tutto quello che trovano, invece le pigulate sono molto più tranquilli. Quindi c'è una differenza enorme di questi due mondi che noi dobbiamo assimilare. Quindi cosa viene fuori? Dal grano viene fuori la pasta, prima la farina, poi la pasta secca all'italiana, dal maiale l'insaccati, dall'uva viene fuori il vino, eccetera, eccetera. Queste sono le domande del passato. Le domande del passato erano ma come si fa a mantenere questi alimenti? Hanno dato risposte del passato. Risposte del passato con generi alimentari che comunque si mantengano nel tempo. Se voi andaste indietro nel tempo e faceste vedere a un etrusco cosa siamo arrivati a fare noi col vino, mi direbbe siete degli stregoni. Questa tecnologia è fuori controllo, voi modificate il mondo senza tenere conto della naturalezza delle cose. La stessa cosa con la birra, l'insaccati con la pasta. Non so, se non siete mai andati a vedere una ditta che produce pasta artigianale, se lo vedesse un romano rimarrebbe estrefatto. Le domande di oggi però sono cambiate e si dividano in queste domande qua, più articolate per un mondo molto diverso. Prima di tutto c'è la fame. Non solo all'estero, 750 milioni di persone soffrono la fame, ma in Italia 3 milioni di persone soffrono la fame. E non è uno scherzo questo, perché siamo arrivati a saturazione degli spazi, cioè noi non possiamo produrre più di così, perché già stiamo inquinando in una maniera maestosa e l'inquinamento brucia fonti produttive, consuma energia, distrugge il mondo, aumenta le malattie e ci rende tutti più deboli e più disarmati rispetto alla modernità. Quindi non si può produrre di più, cosa si deve fare? Ecco, questa è una delle domande di questo secolo, di questo periodo. Abbiamo aumentato a dismisura il consumo di carne. Siamo passati da 23 kg del 61 a 79 attuali. In America di carne rossa, sto parlando, ne consumano 126 kg. Come cazzo fanno? Mi piacerebbe saperlo. In più c'è il maiale, il tacchino, il pollo. Cioè, si consuma una quantità di carne che è assolutamente fuori dal mondo e la carne, a sua volta, è pericolosa. Particularmente la carne rossa. La carne processata, gli insaccati di maiale e di manzo sono pericolosi, sono riconosciuti come genti tumorali 1, quindi inutile stare a fare un giro. Io vi ho pubblicato quello che si trova su PubMed normalmente. Non sono discussioni, ecco, questo vorrei dirlo. La carne rossa è pericolosa, va mangiata in una maniera limitata, diciamo che 2-4 volte al mese è la quantità giusta. Chiaramente capirete se uno ne consuma 79 kg l'anno, fai 79 diviso 4 per 12 e ti viene fuori quanto cazzo ne mangi al pasto. ne va ridotta notevolmente, quindi questo è un dato di fatto. Non è una discussione, ecco, quello che vi vorrei dire. Oltre a questo, la carne rossa ha un impatto inquinante incredibile in tante maniere diverse. Inquina perché per produrla dobbiamo consumare tanta acqua. Inquina perché i liquami sono estremamente inquinanti. Inquina perché gli allevamenti inquinano quello che hanno intorno, riducendo la quantità di spazio che c'è a disposizione per coltivare e visto che gran parte delle coltivazioni vengano usate per dare da mangiare alle mucche, inquinano ancora di più, tagliando fuori e rendendo ancora peggiore la situazione economica e rendendo le popolazioni che hanno fame e bisogno di mangiare sempre più nutrite, nel senso opposto del termine, sempre di più chi ha fame anche per l'inquinamento. C'è una richiesta di un'alimentazione vegana. Cruelty free è una richiesta reale, tiene conto anche di due aspetti diversi, oltre che l'indole delle persone, anche effettivamente del rischio associato al consumo di carne rossa. Le risposte sono risposte diverse da quelle del passato. Per esempio, per la fame, una buona risposta potrebbero essere gli insetti. Io qui provo a tracciare un cammino, non do una risposta universale, traccio un cammino di quello che potrebbe essere. Gli insetti costano poco, inquinano pochissimo, non hanno quasi bisogno di acqua, si può insegnare facilmente a qualcuno come allevarli, fanno delle farine ad altissimo contenuto proteico. Io non credo che siano interessanti per il mondo europeo, che è estremamente decadente e ricco, ma potrebbe essere molto interessante per quei posti dove si muore veramente di fame, di sete e c'è bisogno di supportare in qualche maniera, tenendo conto che più di quello che noi stiamo in questo momento allevando e coltivando è quasi impossibile fare. Si può ridurre lo spreco, ma non si può produrre più di così. E questa roba qua, gli insetti potrebbero aiutare quel pezzo di mondo. Poi magari ci sarà il bar figo a Milano che fa il cocktail con l'insetto dentro la tartina, e potrebbe essere... Però per l'Italia, per l'Europa, il consumo in sé ha un senso estremamente limitato e la gente che dice ah io non lo voglio mangiare, non lo mangiare, nessuno te lo chiede. Ma per quei popoli che muoiono di fame potrebbe essere estremamente interessante. Carne stampata, carne coltivata. Partiamo dalla carne stampata. Sulle slide ho messo delle semplicissime ricerche che ho fatto su PubMed. Che cos'è la carne stampata? La carne stampata è proteine provenienti dal mondo vegetale. Lenticchie, ceci e quant'altro che vengono inserite in delle cartucce di una stampante 3D che è come una stampante di quella che vi fa il faccione sulla torta di compleanno ma un po' più articolata e vengano tessute. Tessute in una struttura che ha una certa somiglianza con la carne. imbevute di, per esempio, barbabietola per dargli colorazione con una parte grassa che viene fatta da oli vegetali e presenta tre particolarità. La prima è che chiamarla carne è una roba delirante perché qui si parla di proteine vegetali. Chiamiamola vegane, chiamatela come vi pare a me. non sembra l'argomento più interessante di tanto però di sicuro non è una carne. La seconda cosa è che io la posso stampare in base alle esigenze che io ritengo quindi più proteine, più grassi, meno proteine, più carboidrati, eccetera eccetera. Sapore, struttura, texture le posso decidere a tavolino. Quindi questa è una roba futuribile interessante. Ancora costa un casino, ancora è estremamente dispendiosa in termini energetici e come tutte le cose nei prossimi vent'anni cambierà la sua fisionomia. Chiaramente il punto è chi governa tutto questo. Se noi ci facciamo sfuggire il governo di queste tecnologie noi perdiamo qualche cosa. Carne coltivata. Sono di due tipi. Allora entrambe sono questo. Un vetrino, un ambiente, insomma, un bioreattore su cui si posiziona una cellula capace di replicare qualcosa. Di solito è una cellula capace di replicare un muscolo. Questo muscolo poi diventerà il nostro alimento. Quindi sono cellule che possono replicare una determinata cosa. Ricordiamoci che le cellule sono organizzate in questo senso qua. Ci sono cellule totopotenti cioè che possono replicare un essere vivente in toto cellule che possono replicare cose particolari. Osse, peli, boh e muscoli. A noi ci interessa questa qua dei muscoli. Queste stanno immerse all'interno di un liquido in cui all'interno si hanno un siero in cui si hanno tutti gli elementi che servono alla cellula per replicarsi. ecco, la differenza è qui, è sul siero. Possono essere o sieri estratti dal mondo vegetale o estratti dalle mucche, dal mondo animale. Se sono estratti dal mondo animale secondo me è una carne coltivata. Se sono estratti dal mondo vegetale secondo me è una vegarne perché non ha una provenienza dal mondo animale. Se dal punto di vista chimico sta roba là biologico vuol dire un cazzo perché un amminoacido è un amminoacido che venga fuori da un cetriolo o venga fuori da un capodoglio è la stessa molecola non cambia nulla. Ma da un punto di vista del progresso dell'idea di quello che stai facendo della cultura e anche della questione ambientale che venga fuori spremendo una mucca ora non è che viene spremuta però insomma infili un bel lago tu togli un bel po' di sangue e poi tu selezioni il siero o venga fuori dal mondo vegetale c'è un'enorme differenza fra le due cose. Ora il problema è secondo me molto 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 da che cosa che chiave di lettura diamo a tutto questo. Allora vi voglio dire che cosa ne penso io. se noi pensiamo che bisogna trovare la maniera di consumare quello che stiamo consumando adesso cambiando tecnologie siamo nel mondo dell'irreale cioè non è rimanere sul consumo di adesso ma è cambiare tipologia di consumo cioè il problema non è come quale tecnologia instaurare per continuare a consumare 126 kg di carne l'anno è diminuire il consumo magari aumentando la qualità e magari aumentando anche la vita di queste cristo di mucche che magari hanno bisogno anche loro di una vita più dignitosa vivere magari 16 mesi dentro un cubicolo è un po' una merda se vivi 10 anni libera in una zona con un bel prato è meglio come cosa quindi da una parte c'è la necessità di avere a che fare con un mondo che cambia dall'altra c'è la necessità di governare un futuro che non può essere lasciato ad altri quindi sì sì a quello che è il progresso tecnico ma un progresso tecnico in cui noi possiamo dire anche la nostra culturalmente grazie dell'attenzione